Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo di Lemory e benvenuti in questo nuovo video Reaction. Allora, sono qua a fare la Reaction agli ultimi trailer di Pokémon Coco, dovrebbero esserci anche in italiano, che sono praticamente recenti, invece questi qua che intendo a fare adesso sono stati caricati un po' prima, quindi via. Nuovo capolavoro Pokémon, ok qua abbiamo Ash, il solito protagonista, ok Pokémon Ecco Celebi, Ok qua incontra Ash, incontra per la prima volta il ragazzo Tazza. Con l'accordo. È interessante, faremo a fare del tutto. ok va bene ecco qua che stavo dicendo bello veramente molto molto bello ci sta un botto allora anche altri trailer eccolo qui ragazzi ok queste cose qui le abbiamo già viste però ok qua ci sono vecchi pokk no se anche i molly di monsen wow va bene oh ragazzi ho anche i trailer in italiano spero di non beccare il copy live è praticamente un inferno ok ecco qua ragazzi è un trailer più succoso in italiano finalmente è stato un chatto da poco e speriamo che non conchegna la coppia e che altrimenti ragazzi è un casino poi ragazzi questo qua non è in italiano visto che comunque sia sia anche in giapponese però comunque sia si vede che è stato pronunciato qualcosa in più e che è anche più bello ok lì sono diventati amici gli altri pokémon dovrebbe uscire a fine anno se non mi sbaglio ok ok qui lui da grande praticamente ok ragazzi vi ringrazio per la visione abbiamo comunque sia visto i giornini trailer adesso manca poco riuscire quindi non penso che ne saranno altri se il video è piaciuto spolizzate se non siete iscritti iscritti e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 ciao